Femmi, Pony! Le manette sta... Rompersi! Ora basta. Voi quattro avete chiaramente bisogno di una rinfrescata delle tre esse del successo di un genitore Pony. Le tre esse. Il mio sistema è infallibile per essere un genitore perfetto per un draghetto. Numero uno, sicurezza al primo posto. Così. Numero due, snack vietati. Questi sono snack di spaghetti. Numero tre, sorveglianza assoluta. Perché? Un attimo, dove è andato Sparky? Sparky! Guarda in alto. Lo sapevo, era soltanto un test. L'avete superato. Ehi, un momento. Quello sembrava Dragonfire. Se ottengo informazioni sul Dragonfire di Sparky, forse Opaline finalmente la smetterà di parlarne. Portami quel Dragonfire! Grazie al Dragonfire, finalmente sarò l'alicorno di fuoco più potente di sempre! Dragonfire... Ho messo la stazione in sicurezza con accortezza! Ehi, fa rima! Oh, con quei lucchetti alle porte di tutti i mobiletti? Eh, in realtà, con un sistema di allarme laser a sei raggi di ultima tecnologia! Oh no, l'ho già... Vanno tenuti sempre in cassata! E sotto stretta sorveglianza! Ottima idea! Infine, bisogna mettere protezioni su ogni spigolo e bordone. Visto? Così non corre più alcun pericolo! No! Wow! Non c'è da stupirsi che Opaline voglia il Dragonfire. È davvero potentissimo! Ecco il posto migliore per esercitarsi con il programma di allenamento alla resistenza agli snack. Sparky deve riuscire a... Come stavo dicendo, Sparky deve riuscire a... È un allenamento complicato! Già, ma è un allenamento che sa di mirtillo! Eh, Itch, scusa, quale hai detto che era la terza S? Sorveglianza assoluta, perché? Dov'è finito? Dov'è Sparky? Dobbiamo trovarlo! Itch, guarda in spiaggia! Zip per lustre il cielo! Sunny, tu... Beh, pattina finché non lo trovi! Sì, guarda in spiaggia! Ah, non riesco nemmeno a prendermi cura di un draghetto! Sparky! Grazie al cielo ero così preoccupato! Pensavo fossi caduto in mare, fossi stato cotto in una torta, mangiato dalle abili... Guarda il cucciolotto, Itch! Guarda com'è carino! Dai! Ah, ecco fatto! Mi dispiace, Pony, è che... Ah, voglio soltanto essere un bravo papà drago! Itch, tu sei un bravo papà per un draghetto! Basta vedere quanto ti preoccupi per Sparky! Ma, a essere onesta, credo che potresti rilassarti un po'. Sunny ha ragione, però Sparky sarà anche piccolo, ma è un tipetto bello tosto! Avete ragione, amiche mie, devo essere... Beh, meno maniaco del controllo... Ehi, Sparky, scusa se sono stato un po'... Sparky? Sparky, no! No!